vediamo oggi andiamo sempre sotto il, come si dice Ferrisville? la ruota, panoramica panoramica? vi farò dopo una lezione su come non far appannare gli occhiali e come fanno le casche e meno male adesso andiamo a prendere il ferry per adesso amore sono solamente emoji anche perché in Italia sono le 8 di mattina un bacio dalla Sicilia buongiorno alla mia sorella Anna Maria di Aversa guarda, guarda Elisabeth grazie sorella a caldo in Italia, com'è il tempo lì? qui c'è veramente solità e l'umidità non c'è ancora molta umidità qui da noi no sto sudando perché? di solito rispetto a come siamo abituati non credo per la masca perché siamo bene per solito let's go scop, 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 scop FPI è meglio stare in mezzo? non è meglio stare in mezzo, per me ma tu, per stare in mezzo perché non ci vado avanti se no mi viene mal di mare dove andiamo? in centro facciamo un camminante diverso non ci vado a mettere 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 camminiamo sempre andiamo sempre dentro dall'altra parte del harbor a Hong Kong side quindi ci stiamo su entrati di Italia di San Suo e di Long sì, stiamo andando a centro sì, stiamo andando a centro bravo, bravo, bravo ma non ci vado a mettere ah 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 si sente buono con il nulla ah 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 come il sogno ah 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 il sogno di ammaiare quello alto e la neve ma per favore cammina ma per favore hai andato in montagna per favore per favore per prego per cammino e poi solte le coperte con i fluvei con i fiumoni che sono enormi a me che dici di giù se vuoi avere caldo vuoi avere freddo dici tu vuoi prestati a cipolla ma non ma e se tu non ti vesti in cipolla ti vesti in con l'unica cosa no, non c'è la distanza di sicurezza continuano a chiedere se distanza di sicurezza Mi hanno scritto almeno 10 persone del lockdown, non c'è lockdown, non l'abbiamo mai avuto. Quarantena, è stata. Quarantena per quelli ammalati, sì. Come? Per quelli ammalati, sì, quelli che arrivano qui, che arrivano qua nel posto. Video, immobile, audio, questo dipende dal campo del telefono. Video, immobile, ha detto. Il video si vede che si è frizzato. Ah, forse perché siamo qua. Siamo in mare. Adesso più da poco fa le colazione. Chi di voi ha cominciato a lavorare? Gabriele gli chiede se tu lo saluti da Salerno. Da Salerno. Stefania, e meno male. E meno male. E meno male. Ma vi ricordate la bua che avevo? Non c'è più. Non c'è più la bua. Ma non si fanno questi gesti? No, sto facendo vedere la mia bua, non c'è più. Ah, ecco. E state via la bua. Non avrei spiegato le altre dita. I gesti lì si fanno solo quelli che li meritano. E meno male. Ciao da Vicenza. Ah, Vicenza. Lui Creek. Non lo so. Lui Creek, 70. Ma. Daniela. Sì, la Vicenza. La Vicenza. La Zignano. Venezia. Ma. Torino. Milano. Roma. La Bersa. Napoli. Sicilia. Paverno. Noi ne andiamo qui oggi. Vieni, 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 vieni. La Bersa. L'aria, 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 l'aria. Ah, è giusto, andiamo là. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Sì. Vieni, mi ha detto i miei grattacieli più. E caminiamo. Lì arriviamo e caminiamo. No, no, no. Pensiamo di arrivare fino a One Child. E siamo andati a cercare la colomba. Vi ricordate? Non eravamo alla ricerca la colomba. L'abbiamo trovata da Gianni. Eh. Non cerchiamo la colomba. Siamo a girare la colomba adesso. Non c'è la colomba. Sei bellissima. Ti scrive Maria Grazia Rosaria. Diciamo un numero di grazia. E te lo scrive anche Spurli Luciani. Stefania dice un bel posto. Sì, è un bellissimo posto. Cosa? No, Stefania ha detto un bel posto. Sì. Ma è... Ciao da Antonella di Verona. Ciao da Antonella, buongiorno. Verona. Verona. Ho visto Luciano Savignano fare di Barbejart a Bolero. Bellissimo posto. Anche da Antonella di Barbejart a Bolero. No, ma sembra di stessa o no? Sì, è stato una volta da bencivistare. Sì. Anche da Antonella di Barbejart. Il turchese ti dona, dice Gabriele. Grazie, grazie. 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 Salute da un po' tutta Italia, Calabria, Perugia. Ciao Danna-Lisa. Ciao Roberta, Perone, tutta la famiglia Perone. Mi ricordo quando ero piccola e ti volevo limitare. Perone, Calabria. Abbiamo fatto delle franzi eccezionali, un'acqua meravigliosa. Io sogno, come sempre, di mangiare spaghetti con le bambole a Napoli. Dove sono i bambini? I bambini sono... Dall'altra parte del... Andate a vedere i bambini, neanche i bambini. Siamo fermi in mezzo al mar. Siamo fermi in mezzo al mare. Sì, perché stanno aspettando le altre due barche che sono lì davanti. in casa avete marmo bianco di Carrara, no? Cosa abbiamo? Se abbiamo il marmo bianco di Carrara. Non so la domanda perché, ma no. Il marmo bianco di Carrara? Eh? Il marmo? No, il nostro marmo è... Il marmo non so. No, non abbiamo il marmo in barmo? In bagno? Sì, abbiamo il marmo in barmo, in barmo. Sì, sulle tre, sì. Insieme ai mattone... Ma non è marmo bianco? Ma non è marmo bianco? Il mosaico bianco. Il mosaico bianco. Sì, il loro, il loro, giallo e giallo. Il loro giallo con un po' di vero. Il nostro forum... Ah... 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 Cosa possiamo fare oggi? Cosa possiamo aspettare? Cosa possiamo aspettare? Intanto potresti raccontare che hai finito di filmare tutte le cartoline. Ah, ok. Oltre mille. Sì. E... Ma domani possiamo fare questo. Beh, ci... Ma domani faremo il video. Non lo so. Stiamo caporando una bella sorpresa per tutti voi. Vito, c'è uno Yotla. Stiamo coperando una bella sorpresa con le cartoline, perché siccome non possiamo spedire, perché il post office è uscito a stare qui, no, non si può spedire. Il mio amico L'Uberto ha trovato una bella idea che racconterà lui. Io? No, no, no. Praticamente è una firma virtuale. No, le firme, le scannerizzi. Scannerizziamo e spediamo, però domani faccio un post, così vi spiego bene. Non mi mandate più i vostri indirizzi in privato su Instagram. Io vi leggo, faccio ancora un post. Non posso spedire, ma ho bisogno del vostro email. Allora dovete spedire a tutti i post, info.com. Info at heather, H-E-A-T-H-E-R-I-A-R-I-S-I.C-O-M. Heather con la H, non maiuscolo. Esattamente come lo scriviamo noi. Dovete mandare un email lì con il vostro nome e l'indirizzo. E poi, noi al vostro modo speciale... Adesso, fai vedere gli occhi. Ha chiesto di far vedere gli occhi. Il sole fa male gli occhi azzurri. Andiamo a fare una bella passeggiata. Poi dopo magari manchiamo tutti insieme un gelato. L'altra volta mi avete beccato all'ultimo. Manchere un bel panino. Buongiorno da Perugia. Vabbè, comunque dopo vi spiego come se ne va a fare. Heather, un futuro in politica? Io come? Un futuro in politica. Sì qui a Hong Kong, no? Qui a Hong Kong, sì. No, ma in Italia non puoi perché non hai cittadinanza italiana. No, ma sono americana. Non hai cittadinanza italiana. Non hai cittadinanza italiana. Non so. Però Hong Kong, China, sì. Ah? Di Hong Kong, sì? Sì, Hong Kong, sì. Come ti sei origine? Qua? Ciao, Heather, Parisi sei orgogliosa di avere origini siciliane? No, non hai origini siciliane. No, non sono siciliana. Origini calabrese. Calabresi. Calabrese, in provincia di Cosenza. Il mio nonno Frank. Parisi. Francesco. Parisi. Non so la siciliana, anche se amo la Sicilia. Adoro. La Sicilia è bellissima. Andiamo a vedere come attracca, no? Che interessante. Vai, vai. 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 Andiamo a vedere come attracca, no? Andiamo a vedere come attracca, no? Andiamo a vedere come attracca. Andiamo a vedere come attracca. Andiamo a vedere come attracca. Stefania mi ha chiesto come sono i biscotti I biscotti erano eccezionali Brutti, brutti, brutti Brutti ma buoni Brutti ma buoni Vieni, vieni con me No, erano buoni, buoni Erano croccanti, un po' come le meringhe Brava, brava, ricordate Delle meringhe a cioccolato Erano un po' croccanti ai lati Poi in mezzo sembrava quasi una Ma quelli lì devi comprarli ancora Dove li hai comprati No, erano di qua Io sono con voi in questo momento Mi occorre con voi Venite con noi Mamma Vado, vado a vedere Mei e poi sotto Bellissimo Però è più bello che si vede al mare No, lo so, è più bello là Però noi ci non siamo Dove andiamo di bello a fare una passeggiata Andiamo a fare una bella passeggiata Oggi Hong Kong è festa Hong Kong è festa E noi invece di camminare questa mattina Abbiamo fatto studiare con grande severità Anche se oggi è festa Io sono molto controversa Loro studiano Quando è festa E quando non è festa Facciamo altre cose Cuciniamo Molte volte facciamo homeschooling Studiamo inglese, matematica In cucina Invece la geografia e storia Facciamo sempre Salo da pranzo Sto guardando se c'è la guardia Che dice loro Non stare sui Ma mi sai che qua posso Che bello qua Nice Qualcuno va in barca Sperando non con le maschere Bella Ti ricordi quando siamo andati in quella barca Anni fa Abbiamo anche tostato su Jessica Guarda 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 Si fa a tornare i bambini Sturo Buon lavoro Caminiamo lungo Basta continuare Basta continuare Sempre Sempre Continua Sempre Sono le bloccate No No Non è bloccata Assolutamente no Facciamo a calma Cioè quando vuoi fare l'antipatico Veramente Non sei capace Di fare l'antipatico Bravo Bravo E dici però brava Bravo E' vero E' vero E' vero E' la realtà E' meno male Io tento di capire come noi possiamo non andare d'accordo Ma non è proprio possibile Siamo proprio Uno più uno Uguale uno Ah bello E' vero 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 E' pugilato Sì Pugilato Ripiuto di rimettere la maschera qua Guarda che non c'è Ah no Finchè siamo così distanti La maschera Perché? Dove vai? E' vero E' vero E' una bellissima Sai che questa è una bellissima fotografia? Questa è una bellissima fotografia Bello No ma non torniamo di qua amore No No non torniamo di qua Non torniamo di qua Ma non torniamo qua Ti faccio Mettiti lì Ti faccio uno screenshot Mi piace Mi piace? Stupenda Era un bellissimo gioco di luci Ma qui c'è Gianni? Sì Gianni Di Gian? Sì sì Ecco perché hai detto di andare No ma non andiamo di oggi Continuiamo E andiamo davanti al Exhibition Center L'altra volta ci avete chiesto Se c'erano i prodotti importati Ci sono tanti negozi italiani Qui a Hong Kong Tantissimi Un'altra parte che puoi fare anche online Su internet Puoi farti spedire a casa Qualsiasi cosa Però qui a Hong Kong Ci sono veramente Dei prodotti Spiziosissimi italiani Per cui io non posso vivere senza Di qualsiasi tipo L'aio Bambino con la maschera Tutti con la maschera Ah Yawning Senza maschera Senza maschera Senza maschera Questa qua con scurto Con la maschera Uh Siamo diventati a Basilea qua La fiera della Della Eh Quest'anno lo facciamo Ehi Gianni Bellissima Che bella Mi piaceva Sì Dici Te 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 Me No Che Che Hi Hi You're cute You're adorable Bye bye He's adorable You're welcome Now he's adorable At home Adesso sono adorabili Ma a casa I bambini Posso immaginare voi a casa 24 4 ore su 24 Adesso sempre Insieme a me Da mesi A vostri figli Che io sono abituata Uberto Dio siamo abituati Ma voi Molto di voi no E' molto difficile Ancora oggi Uberto Dio ci guardiamo Diciamo che Diciamo che Guarda lei Il tempo a disposizione Il tempo a disposizione E' un bumbo Alle orecchie cosa vuoi spostare In un'altra stanza E' sempre Un'altra stanza E' sempre Questa La nostra è anche piccola Sì Adesso era molto piovanti Hai sentito quello che abbiamo detto Riesci a leggere qualcosa? E' E' Mi hai spesso Ti facendo parlare con qualcuno? E' Sai cosa c'è? C'è il sole Lo so Però non è molto invitante lì Che ore sono qui? Sono le 2.10 di pomeriggio Sempre Sì 14.09 E Sì Se fai così Non hai solo un po' Questa è Hong Kong? Qui sopra il capitale Qui dietro E' una valata della felicità Mi sembrerebbe anche un soap opera Con una serie televisiva No? Ma c'è ancora in Italia sentieri? Io mi ricordo che tutta la gente guardava sentieri Guardava Beautiful Anche io guardavo Beautiful Io ero fissata con Dallas Che ha sparato a JR E Cos'era l'altra che guardavo sempre? Ah Mettita Dona Monti Adesso però No Homeland è bellissima Homeland Avete visto l'ultima puntata di Homeland? Bellissima Bellissima Il finale E C'è una Una band A Mosca Una band Russian Russa È russa? Russa, sì Che si sono Vabbè Non sembrano italiani Ma sembrano indiani, vero? No Sembrano jamaicani Sembrano jamaicani Jamaicani, bravo E C'è scritto sulla Hong Kong Forse non si sa ma in realtà c'è un sacco di verde ad Hong Kong È vero? C'è un sacco di verde ad Hong Kong Sì C'è un sacco di verde ad Hong Kong Sì. l'exhibition center l'obiettivo è più alto da un'ora, Danny l'obiettivo è più alto da un'ora Pinas allora noi camminiamo normalmente là vedete dall'altra parte non questo esattamente la parte vedete lì dove erano le navi grandissime che quando siamo andati a Okinawa sono andati fino là comunque la camminata che facciamo di solito è quella esattamente dalla parte opposta è bello anche sopra cosa? c'è una vista perfetta c'è una vista perfetta? ok ok non preoccupare queste figlie hanno di cercare di nuove per fare le cose per fare le cose per fare le cose aria 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 di casa mia aria di libertà aria aria in che senso Sì, capelli scuri? Non lo so. Non è biondo. Chi è che ha scritto per carità? No. Ah, fa caldo. No, l'ho letto per carità. Andiamo giù lì, no? Anche bello e anche sopra, secondo me. È più bello sotto, più bello sopra. Ti piace più sopra? No, quasi perché è nuovo. Ok. Ti, 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 ti. Vabbè, riesci a fare di questo? Sul verde. Che bello. Quello è sempre il Parlamento. Sì. Voi fate, cosa fate tutto il giorno a casa? Vorrei sapere di voi chi esce, chi sta cominciando a lavorare e chi invece sta rimanendo a casa. Raccontami qualcosa dalla vostra vita, sono molto curiosa, molto interessata. Che bella Hong Kong, ha detto. Sì, è molto bella, molto bella, molto bella. No, che bello. Sì, sono molto bella. Sì, è molto bella. Sì, è molto bella. Sì, è molto bello. Sì, sono bella. Sì, è molto bella. That's because you're cute. Dopo parliamo di come fare a non fare appanare, il modo di non fare appanare gli occhiali con la maschera che è un incubo perché sta là e non vedi veramente niente, ci vediamo dopo. Ciao!